Il Taranto è pronto per il derby dello Iacovone contro il Brindisi. Capuano si gioca la carta del riscatto dopo due sconfitte consecutive, ma come dichiarato in conferenza stampa, la sua non è una squadra in crisi. La stessa piuttosto necessita di trovare la giusta scintilla per tornare a correre. Rispetto al match perso contro il Sorrento, il tecnico avrà nuovamente a disposizione sia Calvano che Antonini, mentre non saranno nella partita gli squalificati a Rigi e Bipulco. Il modulo tuttavia non dovrebbe mutare ancora spazio al 3-4-3 davanti a Bannucchi. Il terzetto di retroguardia dovrebbe essere composto da destra a sinistra da Rigi, Antonini e De Santis a centrocampo. Spazio a Mastromonago a destra e Ferrara a sinistra, mentre il partner di Calvano dovrebbe essere Fiorani al momento in pole position su Zonta. In avanti Orlando scalpita per un posto dal primo minuto sulla sinistra, dall'altra parte c'è Canutè con Cianci terminale offensivo. Dalla panchina il volto nuovo Luciani fuori lista a Bonetti che a gennaio dovrebbe far rientro alla Juventus.